Un saluto dal Tg della mobilità, domani sciopero del trasporto pubblico, interessate le linee di Atac e Roma TPL e in regione quelle di Cotral, saranno possibili stop dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio, questa notte possibili cancellazioni sulle linee di bus N, aggiornamenti sullo sciopero di domani su romamobilita.it, le altre notizie all'Eur da oggi, prime chiusure e deviazioni bus per l'allestimento del circuito di Formula E, il Gran Premio delle monoposto elettriche lo ricordiamo in programma per il 10 di aprile, dettagli e aggiornamenti su romamobilita.it Grazie per la visione!